Al comune di Positano, col sindaco Michele De Lucia. Allora, sindaco, c'è questa frana a Maiori, ma non solo quella che crea problemi a tutta la costiera. Ieri Positano Gius è andato sul posto con la geologa Concetto Buonocore e abbiamo visto che la situazione è molto grave. Diceva la geologa che bisogna pensare soprattutto alla prevenzione e anche al controllo con oggi che abbiamo dei mezzi tecnologici avanzati. Cosa ne pensi di questa frana, di questa situazione che vive la costiera? Delle interventi che si possono fare. Ma questo è il dramma più importante che vive la costiera ormai da un po' di tempo. Con il clima cambiato, con questi eventi così importanti in pochi attimi, è chiaro che la prevenzione e un forte investimento per il nostro territorio non è necessario. E' di più, è urgente ed è uno dei temi della prossima campagna elettorale regionale. E' un tema particolare perché mette a rischio non solo quello che è l'attività primaria delle nostre attività, ma mette a rischio proprio la sicurezza di ogni singolo cittadino. Al di là di quello che può succedere, non deve mai succedere sulle frane, vissuto da Positano News nell'ultimo sopralluoco, ma siamo stati di nuovo fortunati per quanto riguarda un avvenimento così di grande proporzioni, che è avvenuto a Maiuri, che poteva essere veramente una catastrofe immane. E qui dico, e l'abbiamo ribadito anche nella riunione che abbiamo fatto in prefettura qualche giorno fa, vanno fatte secondo me due attività. Una è quella emergenziale, cioè esemplificare e intervenire subito, come devo dire, è stato fatto anche in quest'ultima occasione a Maiuri. E in secondo luogo creare uno staff per studiare tutta la statale 163, ma io ci metterei anche la 145, per fare degli interventi strutturali importanti e che venga poi istituito dalla regione Campania un ente che deve anche gestire e manutentare quello che è il lavoro che viene fatto con questi progetti. Ma anche la manutenzione e anche la prevenzione. Si parlava di mezzi tecnologici, droni. Sì, noi per quanto riguarda Positano portiamo un esempio, ma ripeto, noi cerchiamo di, perché abbiamo avuto, come tutti sanno in passato, degli eventi importanti, abbiamo dato incarico ad una società per visionare tutti i nostri valloni e tutta la nostra montagna proprio per capire dove esistono le criticità. Una volta fatto questo lavoro, chiaramente ci impegneremo con i nostri uffici tecnici di segnalare le criticità agli enti competenti per avere poi le risorse giuste per intervenire nei posti dove c'è più necessità. Spero che questa venga fatta in tutti i comuni, ma se non viene fatta dai comuni, perché mi rendo conto che ci sono realtà molto più piccole delle nostre che non hanno le risorse per fare un intervento del genere, lo faccia la regione Campania che sarebbe l'ente deputato con il genio civile a capire tutte queste criticità che ci stanno sul nostro territorio. Un grido di allarme forte, spero che venga raccolto per quello che è veramente e che ci sia un impegno da parte di tutti. Io non mi rimane che ringraziare ancora una volta il prefetto di Salerno che è stato sempre attento sulle tematiche della costa d'Amalfi e non solo e ha organizzato immediatamente un tavolo per parlare di questa emergenza. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie.